Tra l'ultimo episodio e questo qui mi sono messo a lavorare un pochettino alla squadra, infatti come potete vedere c'è l'Arvitar al 29, Erdier al 30, Trapince al 34, si dovrebbero star per evolvere. E un Lainun mi ha appena sfidato e sapete che vi dico? Ho aspettato tanto per l'evoluzione quindi chi se ne frega. E l'Arvitar sale a livello 30, ma gira l'inventa... gira! Bello vero? L'Arvitar si è evoluto in un Pupitar, allora per chi non lo sapesse Pupitar è questo qui ed è l'evoluzione del Pokémon di prima, ossia di l'Arvitar. Per il momento direte ma è bruttissimo, sì è bruttissimo, per il momento è bruttissimo, appena si evolverà vedrete. Anche Trapince ad Erdier da fare evolvere, che è Erdier perché uno è un bel Pokémon, due è forte, tre sto iniziando a pensare un team competitivo, o almeno voglio crearmi un team che sia un minimo coerente con tutti i vari Pokémon. Quindi abilità, nature, mosse, ci sto lavorando abbastanza. Detto questo qui c'è una palestra di Pokémon di tipo acqua, dove non potremo utilizzare Pupitar, cosa meravigliosa, guarda. Dove cavolo devo andare? Ah, devo passare dall'acqua. Altra cosa, off camera ho leggermente aggiornato tutte le mod. Nulla di particolare, ho semplicemente aggiunto Olivrat al 42, allora solo Serperior può combattere qui. E Polivrat va quasi giù, allora vai di nuovo di mega assorbimento, se non mi butta giù dovremmo aver vinto. Perfetto, Polivrat KO, Serperior sale. Ho i Pokémon abbastanza scarsi, quindi forse dovremmo andare a sconfiggere un'altra palestra. Comunque, vai Hitmon lì e provo a fare qualcosa. Che bello, mi ha one-shotato tutta la squadra. Mi sa che non siamo ancora del livello adatto. Per il momento, abbandoniamo questa palestra e cerchiamone un'altra. Se non sbaglio, ho visto nel deserto una palestra di Pokémon di tipo volante. Cosa ottima per il nostro Pupitar, anche per Erdier, Trapping, ci sono tutti i Pokémon che bene o male si comportano bene. Comunque, mi sono appena accorto che questo Trapping ha una natura bruttissima. Non so se si possa cambiare, ma penso di no. Quindi, sì, lo faremo evolvere molto probabilmente, andrà a finire nel box, perché ha una natura brutta. E se uno si vuole fare un bel team, penso debba farlo per bene. Per il risale a livello 43, Trapping c'è al 35. Trapping si sta evolvendo. Ovviamente, il membro che non è nella squadra mi fa vedere l'animazione per bene. Comunque, perfetto, si è evoluto in V Brava. E adesso vuole imparare Dragospiro. Domanda, posso già volarci sopra? Sì, fa abbastanza senso. Mi fanno schifo gli insetti. Però quando si evolve non è più un insetto, quindi per il momento stringo i denti e andiamo. E soprattutto devo aspettare il giorno. Ho notato che i colori di V Brava, i sessi del mio braccio. Guarda che bello. C'è la palestra di tipo volante, almeno. Sembra una gabbia per Pokémon di tipo volante. Quindi, schivare tutti gli allenatori e andare direttamente qui. Però è brutto, quindi non lo farò. È un albero gigante in cui bisogna fare parkour. Ma è bellissimo. Oddio, livello 43. Sono leggermente sottolivellato, eh. Allora, Herdiere è salita a livello 31. Quindi adesso, se io faccio così e gli regalo una caramella rara... Esatto, si dovrebbe evolvere. Oh, eccolo qui. Stoutland. Ricordarmi di non muovermi con WASD, perché va tutto a scatti. Ma di cliccare solamente V e di muovermi con la visuale, perché così va più fluido. Avete già notato che Stoutland come abilità End Rush si dovrebbe chiamare in italiano Rema Sabbia. Questo significa che durante le tempeste di sabbia, la sua velocità aumenta o raddoppia, non ricordo. Insomma, diventa molto più veloce. Quanto invece riguarda un po' l'attacco? Allora, abbiamo 79 di attacco. Serperior ne ho 84. Contanto che Serperior è più di 10 livelli sopra, direi che è buono. C'è Pupiter ha ancora 59 di attacco. Vai di azione. Mi ha one-shotato. Raga, ma mi ha one-shotato tutti. Ah, Ronzio, e vabbè Rip. Purtroppo non riusciamo a reggere un Ronzio stabato di un Mophim a livello 43. Quindi dobbiamo un attimo allenarci un altro po'. Per il momento definitivo del team c'è solamente Pupiter, perché Stoutland potrebbe essere definitivo, però se la contende con un altro Pokémon che ha la stessa abilità ed è di un tipo leggermente diverso. Quindi sono ancora indeciso. Il problema principale è che hanno tutti mosse da schifo. C'ho Pupiter che non ha nemmeno Frana. Da quel che ricordo imparava Frana l'Arvitar. Non Pupiter, proprio l'Arvitar, la prima forma. Quindi boh. Oddio, Shroomish, bello. Provo a catturarlo. Soprattutto con la sua abilità è molto forte. Non dovrebbe essere troppo difficile da catturare. Comunque è bellissimo il fatto che di due palestre non ne possiamo battere nemmeno una, perché abbiamo i Pokémon di livello basso. Cosa? Mi sono confuso. Non è Shiny, vero? Un altro, qualsiasi altra cosa. Ma che c'è un matchup Shiny. Ah, server PLG ha appena fatto l'achievement. Oh, Shiny. Ma c'è un Togekiss. Ci sei? Grazie, un Togekiss a livello 55. Entra nella Ultra Ball, guarda, mi serviresti. Più probabile che adesso spawni Arceus con una Master Ball in mano e mi dice catturami. E a metà vita, vita gialla, Ultra Ball ce la dovremmo fare? Ho catturato un Togekiss a livello 55. Ma che mi significa? Che cavolo lo affronto questo qui, non ho... Ah, il 63. Oddio, nemmeno tanto alto. Ora, ma wild di tipo acciaio folletto, quindi vibrava, forse se non me l'ho one-shotta. Sto continuando a fare gira la ruota all'infinito. Io è sempre lo stesso centro Pokémon, non ho sbaglio. Oh, c'è un boss verde. Dovrebbe essere quello più facile. Ed è un Merit, vai. Però per fare prima, avanti Serperior. Allora, mi ha droppato. Qui che è uno di quei braccialetti che ti potenzia una statistica, ma ti obbliga a fare qualcosa. Una caramella rara. Prendi tutto. Serperior vuole imparare Giga Assorbimento. Al posto di Mega Assorbimento direi che va bene. Allora, intanto mi curi Pokémon. Voglio vedere un attimo il mio Pokémon Shiny. E quel Togekiss di livello altissimo. Perché sono interessatissimo, vai. Ma non c'è il PC. Di solito è qui. Ma che vuol dire? Questo, questa qui, che cos'è? Una palestra di tipo fuoco? Ma Moswine, che cos'è? Una palestra di tipo terra? Perché non penso sia ghiaccio. E questo qui sembra avere la skin di Federick. Vai un attimo, non lo so, vibrava. Vai K.O. direttamente. Ci riprovo di nuovo. Questa volta manda Gastrodon. Allora, contro Gastrodon, con un Giga Assorbimento dovrei one-shotarlo. Allora, mandiamo Riolu, tanto lo facciamo andare K.O. Perché non mi interessa avere un Lucario, quindi della sua amicizia mi importa poco. Anche se è triste come roba. Non siamo nemmeno all'inizio. Qui ce n'è un altro. Ok, ha un Golurk. Golurk è un Pokémon di tipo terra-spettro. Però può imparare volo, eh? Perché nella serie animata si rientra le gambe in dentro e fa uscire il fuoco. Strano, però è così. Comunque, prendi foglia, dovremmo averlo mandato K.O. Attenzione, Pupiter vuole imparare terremoto. Alleluia. Allora, Morso oppure Rivincita? O Crunch. Allora, togli Morso, sticavo. Adesso, devo passare da questa parte. Ha uno Swampert. Oh mio Dio. Cambia subito e manda Serperior. Per quattro stab, ovviamente. One-shotato. Stoutland sarà al 37. Adesso qui ha un Krucodile. Ti dico, proviamo con Nemesi. Quanto gli faccio? Va bene, va bene. Vai Serperior. È quasi al 50 al terzo episodio, ma non è di certo colpa mia se è forte. Di foglie. Serperior sarà al 48. Stoutland sarà al 38. Va bene. Ok, devo andare da questo lato. E c'ha un Gly. Oh mio Dio. Glyscore come cavolo lo faccio fuori. Allora, siamo arrivati dal capo palestra, che inizia ovviamente con un Mamoswine a livello 50. Ovviamente iniziamo benissimo. Allora, vai Rio. Che cavolo è successo? Perché è appena diventato gigante questo Mamoswine? Ma che succede? Bene, tanto me lo manderà K.O. Quindi vai. Perfetto. E ha utilizzato Levitoroccia. Un altro Fendifoglia. Però ha un nido, quindi. Io non vorrei adesso mi mandasse K.O. Bene, Vibrava ha fatto fuori K.O., ritorna Serperior in campo, Fendifoglia e ha switchato con un Glygar. Ma come? Gli allenatori hanno un Glyscore e tu hai un Glygar. Ma vi giuro ragazzi, ho combattuto contro un Glyscore che aveva questa tecnica. Tossina, protezione, sostituto. Finché non mi sono aumentato le statistiche talmente tanto da one-shotarlo, la battaglia non finiva. Quindi a questo punto, questo Glygar sta utilizzando la stessa strategia. Glygar sarà a livello 37, vuole imparare Stone Edge. Che non so che cosa sia, però è di tipo roccia, quindi gliela insegno a posto di azione. E qui abbiamo la medaglia, quindi prendiamo tutto. La medaglia l'ho presa, sì. Siamo bene a due medaglie adesso. Comunque usciamo. Prima però di abbandonare questa città, ti direi di andare al Mon Market, di vendere un po' di robe, di comprare altre Pokéball e Ultra Ball. Perché per il momento il nostro team non è formato ancora per nulla. Quindi ci può fare solo che bene. Vabbò, ho detto questo, via, vi brava e andiamo verso la prossima città. Andy Buz, belli, posso riuscire a catturarne uno. Andy Buz è molto bello e soprattutto ha una bella abilità per il team che volevo costruire. Quindi potrebbe essere utile. Riesco ovviamente a prenderne uno. Venga qui, subito. Venga qui. Ce l'ho fatta contro un Andy Buz a livello 62. Ok. Ha senso con Serperior. Prova a inviare Pupitar. È quasi alla metà dei tuoi livelli. Quindi Stone Edge non dovrebbe one-shotarla. Dobbiamo lanciargli una Pokéball adesso. Perché ho solamente quello. Ho solamente un Ultra Ball e la voglio lanciare proprio all'ultimo quando avrà veramente poca vita. Oh, stanno iniziando a ricaricare dei Chunk. C'è un Drill Burr. Adesso subito provo a catturarlo. Andy Buz, per favore, entra velocemente che c'è un Drill Burr lì. Ho catturato Andy Buz, perfetto. F3 più A, ricaricano i Chunk. Ho visto un Drill Burr qui sotto terra e voglio subito catturarlo. Un Drill Burr qui, entra, subito. Qualsiasi mossa lo manda KO. Vai di Pokéball allora. Catturato, perfetto, facile. Io non so da quanto cavolo di tempo sto registrando. Ho fatto assai che sono andato a finire in un deserto questa volta. Comunque vediamo se c'è qualche Pokémon carino. Devo dire che oggi abbiamo battuto la palestra, abbiamo allenato un po' di Pokémon. Salve, signor Trapinch. La catturo perché magari... Magari ha una natura decente, stavo dicendo. Catturato tipo tre Trapinch, tutti a livello 35. Hanno una natura migliore del mio Vibrava. Ma forse lo cambio e sono apposto. Lì c'è un altro, guarda. Allora, sono arrivato in una specie di villaggio del deserto dove c'è anche una palestra di tipo volante. Cura i Pokémon e non ho notato. C'è il PC, posso controllare le mie catture? Che cavolo che non spawna mai? C'è il PC, ma che vuol dire? Perché non spawna più il PC? Un altro! No, ma siamo scher... Un altro Pokémon Shiny! Ma perché poi mi capitano solo Shiny brutti? Su, ho scritto a livello 20 Shiny. Ho solamente 11 Pokéball, quindi spero di riuscire a prenderlo. Qualsiasi mia mossa l'ho one-shotta, quindi potete già immaginare. E anche se l'ho one-shotta, sapete che vi dico chi se ne frega. Comunque penso di star trovando molti Shiny perché ragazzi non potete capire quanto cavolo sto viaggiando. Ore che cavolo che faccio avanti e indietro. Ok, per poco non l'ho one-shottato, vai. È a vita rossa, più di questo non so che dirti. Due Shiny in una parte. Abbiamo già il clickbait, suppongo. E infatti è un altro Drillbur, lo vado a catturare. Che è perché i Drillbur possono avere tante abilità. Magari quello che ho catturato prima non aveva una buona abilità e ne abbiamo un altro. Cosa vedono i miei occhi? Qui c'è un Pigknight. Lei, signor Pigknight, vorrei combatterla. Perfetto, eccolo qui, un Pigknight. Provo a lanciargli una Pokéball, un Embore fa sempre bene. Comunque è uno starter, quindi è raro. Ho catturato Pigknight e si è buggato il gioco, che bello, perfetto, dai. C'è un Aundum, voglio provare a catturare anche lui. Sì, raga, l'ho capito, però sono Pokémon molto rari. Ad un buon livello, come faccio a non volerli catturare, cioè... Vabbè, non ci credo, abbiamo catturato Aundum, bene. C'è, adesso, dopo tutta la fatica fatta per catturare i Pokémon, non riesco a trovare un Pokémon Center. Ho attraversato 45 biomi diversi, ma nulla. È un boss, spero. Ok, è un boss, va bene. Se è un boss, lo accetto. È stato Shiny senza Pokéball avrei pianto, in tre lingue diverse. Lente è una caramella rara, prendi la caramella, arrivederci. Oddio, si ha lodato il cielo. Finalmente un box. Allora, abbiamo un Toki Chiss a livello 55. Ok, perfetto, ha l'abilità buona, quella che aggiunge effetti secondari alle mosse. Ok, sembra essere buono, dobbiamo un attimo vedere. Oddio, meno velocità, non è buono affatto. Un Mandy Buds, che ha come abilità. Perfetto, è l'abilità buona. È neutro, ci sta. Il Burr, mi dico un po' lei. Ma schifo. Qui c'è un Trapinch con della sabbia soffice. Gigante, quindi questo qui già è buono. Possiamo metterlo di qui. Qui abbiamo i due Pokémon Shiny, ossia Surskit. Adesso dov'è? Machop, che ha anche uno strumento. Guarda qui, un Machop Shiny. Oh no, magari li faremo anche evolvere. Questi qui, un Surskit Shiny. I Pokémon più brutti non potevano capitarmi. O meglio, Machop è un buon Pokémon, ma non mi interessa. Questo, prendo Mandy Buds, lo metto al posto di Riolu, che è completamente inutile. Tolgo Hitmon Lee e mi metto Trapinch. Tolgo questo Vibrava. Adesso gli devo togliere un attimo lo strumento. Guarda, per il momento ci possiamo anche farmare qui, perché sto veramente impazzendo. Quindi... Ciao.